E pronto da cominciare con un altro progetto di competenza per noi. È un progetto preparato per il governo e la Fondazione Buonoci. Esa che è in un siguiente livello per promuovere il gestamento di bucchi. In Tension Cita, una volta che si lanza esa che, oficialmente, la cultura basa in scuola può partecipare in esa che e lo incorpora in un altro idioma. In Tension Cita, la cultura basa in scuola e la comunità che non ha usato in un altro idioma. È un'opportunità per molti usare un idioma che non si senti più confortabile in scuola. E qui non si pensi più in un pape, 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 in un pape. In un pape, 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 in qui di stimolare il lezamento, stimolare il uso di pappimento e è qui a forma un feto natural. In juni, il 22e juni, abbiamo appunto un pilote per la scuola di Q3. La scuola di Washington, la scuola di Pieter Boersschool. Abbiamo appunto la scuola di ultima scuola di classe 6 e abbiamo appunto anche il spazio di Pappimento. con il nostro preparatore di turese e poi in ottobre abbiamo fatto il Spelling Bee nazionale con tre idiomani. Mi chiede con il ministro e Olga, mi ha visto la maggioranza di cosa che mi stanno mi stanno organizando total per avere una buona attività e esitoso. La scuola del Spelling ha un costo e l'attenzione per usare il Diasabra il progetto del Ballroom Pagania più possibile presente per questo evento.